Una nuova sala di ascolto per le donne vittime di violenza, allestita a cura del Soroptimist con il sostegno della consulta femminile, è stata inaugurata a Torino, alla stazione dei carabinieri Pozzo Strada, in via Guidoreni. L'iniziativa fa parte del progetto Una stanza tutta per sé, in corso dal 2014, che ha sinora permesso l'allestimento di tre stanze, presso le caserme dei carabinieri di Mirafiori e Barriera di Milano e presso il comando della Polizia Municipale di Torino.